Per quanto riguarda i passeggi, è già in programma quella che è la stesura del breccino nei due controviali, come ogni anno. Una stesura che poi è consona e faciliterà quello che è l'attraversamento di questo spazio da parte dei cicli, delle persone naturalmente a piedi, di mamme con passeggini, ma anche delle persone che non sono normodottate, con disabilità, e quindi devono percorrere con le loro carrozzine. Dopodiché daremo presto un incarico, visto che abbiamo approvato il bilancio adesso, un incarico per quanto riguarda la progettazione di questo spazio che i bambini hanno immaginato come un giardino delle meraviglie e dove davvero si prevede una riqualificazione urbana e di arredi tutta nuova, tutta da pensare. Attraverso un progettista dedicato caleremo il loro pensiero, proprio perché si parla di progettazione partecipata, su quello che poi di fatto può diventare questo spazio, che loro hanno individuato come un giardino sonoro e un giardino anche didattico che favorirà anche l'incontro, essendo un giardino di tutta la città e non solo del centro storico, proprio di più persone, anche proprio nella formazione di quelle che sono le generazioni, dagli anziani ai bambini, se si parlerà di verde, si faranno tante attività, quindi c'è tanta carne al fuoco e siamo ben contenti di portare avanti questo progetto. Invece sul parco urbano, ahimè, lì abbiamo un problema evidente con la ditta, c'è un problema di ritardo lavori, non dovuto certamente a quello che è il controllo dei tecnici del Comune di Fano, che puntualmente hanno già emesso diversi ordini di servizio. Avevamo ancora uno programma che terminava come lavori a marzo, ora i lavori si sono protratti, incontreremo nei prossimi giorni la ditta, rifaremo un punto della situazione, la prossima settimana partirà anche i lavori per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti, perché negli anni si sono accumulate talmente tanti rifiuti che essendo poi diventati nel tempo rifiuti speciali, abbiamo dovuto indire una gara apposita. Nel frattempo stiamo lavorando su quelle che sono invece le piste ciclabili, quindi questi percorsi ciclabili, in questo momento siamo sulla parte, quella verso l'area commerciale. Io mi sento di ringraziare fortemente i tecnici del Comune di Fano, perché i ragazzi stanno facendo veramente dei miracoli. È difficilissimo appellarsi spesso ad itte inadempienti, che non dipendono né dall'amministrazione né dal politico, tantomeno dal tecnico che insistentemente ogni giorno gli è sopra. Dipendono dal fatto che in alcuni casi le ditte vogliono prendersi più lavoro di quello che effettivamente possono svolgere, alla luce del rincaro dei prezzi, e sono costrette poi in corso d'opera a fare dei passi indietro. Queste inevitabilmente hanno delle conseguenze molto negative per le città in cui si svolgono i lavori, molto negative, perché ricordiamo che il parco urbano è stato uno dei primi investimenti che questa amministrazione ha fatto. È un luogo strategico per tutta la città, è un luogo dove si sta bene.